Cos'è quella cosa? Il signore dei Ragniteschio. Non possiamo essere più veloci di lui. Sta tranquillo, posso congelarlo io, quell'insettaccio. Sei troppo lento, Copacca. L'acqua se lo porterà via. Lasciate fare al signore del fuoco. Dobbiamo agire insieme. I sei eroi si disposero fianco a fianco e insieme attaccarono come una sola forza. Onua! Adesso! Ce l'abbiamo fatta! Se si uniscono, le maschere hanno il potere di sconfiggere il male!